Una grigentina Adriana Vitale intraprende lo sciopero della fame contro blocchi e ritardi nella formazione professionale in Sicilia. La signora grigentina Adriana Vitale intraprende non è la prima volta uno sciopero della fame, una protesta plateale in ragione dei blocchi e dei ritardi che attanagliano ancora il settore della formazione professionale in Sicilia. Sì, questo è il quinto o il sesto sciopero della fame in questi lunghi ultimi tre anni che intentiamo intraprendere per sensibilizzare per l'ennesima volta la politica siciliana. La formazione professionale è stato il settore più colpito dalla politica del governo Crocetta. In buona sostanza siamo già in 8.000 ad essere stati tutti licenziati senza nessuna prospettiva. Per quanto riguarda la formazione professionale è suddivisa in due settori, gli interventi e i servizi formativi, quindi le politiche attive del lavoro. Relativamente agli interventi è tutto bloccato. Relativamente alle politiche attive del lavoro è già da qualche anno che non si erogano più ai siciliani, quindi è un servizio interrotto. Da questo punto di vista bisogna dire che non solo i servizi non vengono offerti ai siciliani, ma contestualmente gli operatori sono stati licenziati e quindi è un duplice effetto negativo relativamente a questo settore. Le politiche attive del lavoro sono in implementazione, però la Sicilia è in notevole ritardo. Noi sostanzialmente chiediamo una norma da inserire da incardinale nella finanziaria, nella quale si stabilisce proprio il principio dell'erogazione delle politiche attive del lavoro ai siciliani come servizio, con l'utilizzo degli operatori exisportelli multifunzionali che a suo tempo sono stati riqualificati con fondi regionali. Quindi chiediamo che venga incardinata questa norma in modo tale da rimetterci al lavoro, perché è già dall'8 aprile del 2015 che noi siamo assolutamente per strada, disoccupati. In conclusione voglio aggiungere che proprio per rafforzare il ragionamento sulla mancanza dei servizi erogati delle politiche attive del lavoro, per esempio vengono giovani a casa mia a chiedermi dove possono farsi aiutare a fare un curriculum. Io indico ovviamente i centri per l'impiego, ma loro mi rispondono che nei centri per l'impiego non fanno di questi servizi, per cui si interrompe un servizio importante in aiuto proprio dei giovani, è uno dei tanti esempi. Ovviamente noi da martedì annunciamo un sit-in permanente in piazza Parlamento, lì staremo, io inizierò l'ennesimo sciopero della fame, e lì staremo fino a quanto non sarà scritta la parola fine sulla nostra avvertenza che ormai è diventata veramente vergognosa.